Bentornati a tutti voi su Via della Fede. Approfondiamo insieme il Vangelo di oggi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento che è accompagnato da una promessa, perché tu sia felice e goda di una lunga vita sulla terra. E voi, padri, non esasperate i vostri figli, ma fateli crescere nella disciplina e negli insegnamenti del Signore. Schiavi, obbedite ai vostri padroni terreni con rispetto e timore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per farvi vedere come fa chi vuole piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo di cuore la volontà di Dio, prestando servizi o volentieri come chi serve il Signore e non gli uomini. Voi sapete infatti che ciascuno, sia schiavo che libero, riceverà dal Signore secondo quello che avrà fatto di bene. Anche voi, padroni, comportatevi allo stesso modo verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che il Signore, loro e vostro, è nei cieli e in Lui non vi è preferenza di persona. Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese «Signore, sono pochi quelli che si salvano?» disse loro «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo «Signore, aprici!» ma egli vi risponderà «Non so di dove siete». Allora comincerete a dire «Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze». Ma egli vi dichiarerà «Voi, non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti. Quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti del regno di Dio, voi, invece, cacciati fuori. Verranno da Oriente e da Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno e siederanno a mensa del regno di Dio. Ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Commento al Vangelo Ciao a tutti e ben ritrovati questo mercoledì su Via della Fede. Oggi facciamo gli auguri a tutti coloro che si chiamano Germano, è la ricorrenza di San Germano da Capua, un santo che fu davvero un grande pacificatore, dunque che anche per noi possa essere infusa questa pace da questo santo, che ci possa dunque permettere di vivere e affrontare questo passo del Vangelo, e la vita di tutti i giorni che questo Vangelo significa con pace e serenità e soprattutto perseveranza. Cominciamo dunque con il segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Concedici, o Paraclito, la tua intelligenza perché mediante questa possiamo comprendere questi passi del Vangelo, queste parole che ci aiutano a vivere la nostra quotidianità e ci avvicinano al Padre nel cielo. Padre, donaci il tuo amore perché siamo davvero molto bisognosi. Questo Vangelo di Luca oggi comincia così. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi. Mentre era in cammino verso Gerusalemme, un tane gli chiese, Signore, sono pochi quelli che si salvano? Ora, è un elemento importante, abbiamo visto come è più facile che un ricco passi per la cruna, cioè che un cammello passi per la cruna di un ago piuttosto che un ricco nel Regno dei Cieli. Dunque si avvertiva questa difficoltà di poter accedere al Regno dei Cieli ed è per questo, proprio per questa impossibilità ad accedere al Regno dei Cieli che Dio si fa carne, che scende Gesù e cammina a lungo in largo per cercare di spiegare e far comprendere qual è la strada, qual è la via che porta in Paradiso. Dunque una domanda più che lecita e la risposta di Gesù è una risposta abbastanza piccante che ci deve far riflettere. Dice, sforzatevi di entrare per la porta stretta perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare ma non riusciranno. Ora, il Signore stesso riconosce che la porta è stretta e che bisogna fare uno sforzo per entrarvi. Certo che quando la porta è stretta e noi siamo molto ingombranti, non soltanto da un punto di vista fisico perché magari abbiamo qualche chiletto in più, ma soprattutto dal punto di vista spirituale abbiamo tutta una serie di zavorre. È un po' come se camminassimo con due paia di scarponi, con lo zaino, con le valigie, come se volessimo portarci dietro il mondo. Dunque per poter passare per questa porta stretta abbiamo bisogno di spogliarci di tutte queste cose che sono inutili e che non ci permettono poi di fatto il passaggio perché una moneta non la possiamo portare dall'altra parte del velo. Possiamo portare i suoi frutti ma non le cose materiali di questo mondo. Dunque se noi rimaniamo ancorati a quelle cose che per noi diventano idoli siamo troppo ingombranti per entrare in questa porta. Dunque bisogna fare uno sforzo. Cosa ci dice il Signore con sforzo? Lo sforzo è quell'impegno costante. Non è... allora se il Signore avesse precluso l'entrata nel regno dei cieli non si sarebbe incarnato. Non è la cosa impossibile. Lo sforzo è la buona volontà. Cioè il Signore non ci chiede di fare la cosa impossibile. Poi Signore io questo posso, ecco lo metto sul tavolo, con la convinzione e la certezza della fede che Lui metterà tutto il resto che manca perché io possa ridurmi e farmi piccolo per poter passare in questa porta stretta. Dunque è la buona volontà che ci conduce verso il Padre nostro che è nel cielo. Quando... e poi spiega il Signore con una parabola dice quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta voi rimasti fuori comincerete a bussare dicendo Signore aprici ma egli risponderà non so di dove siete. Allora comincerete a dire abbiamo mangiato e bevuto alla tua presenza, tu hai insegnato nelle nostre piazze ma egli dichiarerà voi non so di dove siete allontanatevi da me tutti voi operatori di ingiustizia. Ora se c'è una doppiezza di cuore noi possiamo anche aver conosciuto direttamente Gesù. Abbiamo anche pranzato con Lui o parlato con Lui anche essere stati guariti da Lui come se fossimo proprio quelle persone che vivono in quel Vangelo. Ma questo non ci fa di Cristo perché nel nostro cuore c'è una doppiezza. Ecco che il Signore nei Vangeli precedenti ci parlava di questa ipocrisia del cuore. Dobbiamo abbandonare, dobbiamo spogliarci di questa ipocrisia per poter essere veri amici di Gesù, per poter essere fratelli di Gesù, poter essere figli del Padre che è nel cielo e come una pecorella fa parte del greggio, così anche noi. Non è che se la pecorella è nera e brutta non fa più parte del greggio, se la pecorella è un po' scontrosa non fa più parte del greggio. L'unica cosa è che la pecorella non se ne deve andare via. Dunque basta quel poco di volontà per rimanere proprio in questa volontà di Dio che per noi sarà aperta questa porta stretta. Là, come dice il Signore, quando vi sarete allontanati da me ci sarà pianto e stridore di denti. Quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Ecco che è un elemento importante poter aprire gli occhi su una realtà che non è solo quella materiale, che ci fa capire che dopo la morte c'è una vita ancora più fruttuosa e Dio non voglia davvero mai che possiamo essere esclusi da questa vita fruttuosa. Il Signore dice che verranno da Oriente e da Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, io vi dico, vi sono ultimi che saranno i primi e vi sono primi che saranno ultimi. Anche per coloro che sono salvati, possiamo vedere come nel regno di Israele non erano tanti coloro che aderivano al Salvatore, aderivano al Cristo, a queste parole di verità che erano corroborate da grandissimi miracoli. Venivano guarite queste persone. Non erano parole al vento di un povero peccatore o di un uomo che diceva bene, dice così ma poi fa altro. No, voi dovete soltanto immaginare questo per farvi comprendere la potenza di Dio. Un uomo e dodici trappastori, pecorai, dodici persone un po', qualcuno sì era un po' più dotto ma voglio dire, hanno stravolto completamente il mondo e da quel momento in poi si segna il tempo. Cioè dalla morte di Cristo, colui che è stato crocifisso ed ha perso tutto perché generalmente la storia la scrivono i vincitori. Qui invece il Cristo la scrive e ci avvisa di non restare fuori, di non essere gli ultimi ma di correre con questa buona volontà per essere primi nel regno di Dio anche se siamo venuti dopo. Dopo il popolo eletto, per esempio, erano il popolo preferito da Dio, i primi che avendolo rifiutato molti di loro diventeranno ultimi. Quindi noi rimaniamo sempre legati al popolo di Israele e dobbiamo sempre rendere grazie a loro perché la salvezza viene da loro. Dunque, benedetto il popolo di Israele e preghiamo sempre per la diaspora perché si possa ricongiungere e comprendere la verità che Cristo ci ha rivelato. Dunque, che la benedizione di Dio sia anche oggi su tutti voi, sui vostri cari, sulle vostre famiglie. Se vi è stato di qualche aiuto questo Vangelo, vi chiedo preghiere per...